Cosa ne pensi Simo? Sono entusiasta perché è un nuovo ruolo per me e mi rende un po' bambino, un po' adolescente e un po' il capo. No, il capo no, perché comunque ho il capitano qua che pulsa dentro di me e quindi sta molto entusiasta. Guarda che stilosi. Perché ci siamo, io farò tutti i concerti. Questo è il giorno numero tre di ripresa. Sì, sì, ma io tutte le date live le farò così. E io col cappello con l'elica. Anzi, andiamo a cercare un'altra maglietta con la stella. Infatti stavamo pensando a una Miss Perilive che è di troppo seria. Adesso sappiamo che non trova. Questa è perfetta. Per me va bene questa, capitano. Adesso che canterò però Carletto o Principe dei Mostri. Sarà la mia intronomità. Se non canti Carletto... Però la versione canterò brawl e più suonare anche tutte le danze. Tutto a forza, blast, tutto in blast. Allora, questo qua è backstage dublino e il video uscirà in settembre. Adesso andiamo a otterrere sogni. Quindi ci aspetta l'avvocato. Andiamo a trovare Nicola Scheggia. Andiamo dall'avvocato che ci dirizzerà con il suo charmer. Sì, la statua famosa dell'avvocato. Esatto, ma non è stato io che ho già ordinato l'oro. Solo che sto aspettando che in casi in Europa, quella che sto da non senta non siano attività. Perché... Tutto un ciao! 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 Grazie a tutti.